buongiorno agli ascoltatori la verità alle sette la resegna politicamente scorrettissima della verità allora buongiorno a chi ci segue sui canali social quelli della verità o quelli miei personali buongiorno a chi ci recupera attraverso il sito della verità buongiorno anche a chi ci segue attraverso il podcast o il podcast dal sito della verità oppure il podcast dalle principali piattaforme spotify google podcast apple podcast e così via a proposito di podcast volevo cogliere l'occasione colpevolmente non lo faccio abbastanza spesso quanto vorrei a volte dimentico di annotarlo e poi la cosa sfugge ma desidero segnalarvi come sulla verità digitale ci sia un'offerta di prodotti podcast di grandissima qualità che mi permetto di raccomandarvi nel corso della giornata ne segnalo tre ma i prodotti sono tanti segnalo il podcast di stefano piazza occhi sul terrorismo che è giunto alla sua sesta puntata vi segnalo quello di camilla conti ritratti dedicato ai protagonisti dell'economia quello che trovate è dedicato a vittorio valletta poi arriverà alla brion brion vega appuntamento venerdì e poi c'è il podcast di martino cervo parole testarde ecco sono delle segnalazioni mi permetto di invitarvi andate sul sito della verità sezione podcast scaricatevi una serie di cose che secondo me nel corso della giornata possono essere un notevole arricchimento della vostra dieta mediatica a proposito di verità il titolo d'apertura del quotidiano diretto da belpietro oggi è dedicato alla quarta puntata dell'inchiesta anzi della contro inchiesta di giacomo amadori sul caso metropol alla prima puntata con il fatto oggettivamente clamoroso della connection della connessione del legame del link usate l'espressione che preferite tra uno di coloro che erano attovagliati al metropol con savoini e gli altri e cioè il mitico avvocato meranda e il giornalista dell'espresso oggi domani tizian che avrebbe fatto l'articolo ma i due avevano viaggiati insieme avevano contatti prima durante dopo insomma una cosa fabbricata insieme possono dire i critici seconda puntata la presenza anche di un agente dell'intelligence russa per fare cosa terza puntata la rete politica e anche ramificati in alcune loggie di meranda stesso la quarta puntata di oggi è per tanti versi clamorosa perché fa riferimento al tentativo prima e dopo la vicenda del metropol della stessa cricca di piazzare altre partite di petrolio insomma di fare diciamolo chiaramente un gol in rovesciata che avrebbe sistemato le vite di alcuni di questi signori o probabilmente di tutti questi signori però l'operazione è fallita prima e dopo esattamente come è fallita quella del metropolo ma qual è la differenza è che negli altri casi in cui non c'era di mezzo la politica non c'era di mezzo la lega eccetera non c'è stata nessuna attività della magistratura intanto maurizio belpietro dice ma che fa da milano possibile che l'allora direttore dell'espresso che pontificava eccetera oggi taccia su questo e attenzione perché scopriremo su repubblica e sul corriere della sera due questioni poco simpatiche legate a questa inchiesta ma ci arriveremo a proposito del gruppo gedi stampa e repubblica prosegue l'assalto rispetto a un governo descritto come orbania ormai l'avete capito ieri parlavo di due mega trend che ci avrebbero accompagnato che ci accompagneranno da qui all'europe per un verso la sollevazione dei mandarini e delle varie magistrature corte dei conti ma anche magistratura ordinaria con il capo della nm che minaccia lo sciopero ma anche il capo dell'anticorruzione e così via per altro verso l'altro mega trend l'altro tormentone l'altro format che ci porteremo appresso è verso l'europe l'europa buona insidiata dai sovranisti cattivi ieri varsavia oggi budapest domani roma ecco stampe repubblica proseguono su questa falsa riga oggi su repubblica viene convocato come test d'accusa l'ex ministro provenzano che descrive appunto un italia inesorabilmente urbanizzata mentre sulla stampa c'è tutta una serie di colpi e quello che dovrebbe essere il colpo più duro è l'intervento di zagrebelski in prima che dice ah qui c'è una torsione autoritaria la costituzione però uno cerca 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 va a vedere che cosa contesta zagrebelski il fatto che ci sia un uso eccessivo dei decreti legge e che nei decreti legge entrino anche materie eterogene per contenuto e zagrebelski che diciamo non è esattamente un pulcino diciamo non appartiene alla squadra primavera dei giuristi italiani è un signore che ha attraversato i decenni si sveglia adesso cioè è arrivata la meloni da cinque minuti e da lei contesta 50 anni di abuso della decretazione dai che la cosa fa abbastanza ridere così come francamente comunque uno la pensi sulla materia non sembra essere questione tale da dire siamo all'onda nera una torsione belluina della politica italiana il fatto che la regione lazio a guida rocca centrodestra abbia dapprima concesso e poi ritirato il patrocinio al gay pride prendendo come motivazione il fatto che nelle comunicazioni ufficiali degli organizzatori ci fosse una parte esplicitamente pro utero in affitto e la regione lazio dice no quella cosa è vietata dalle leggi e noi non concederemo il patrocinio a forse diciamo così la regione cercava un'occasione per ritirare il patrocinio può essere ma che oggi zanna dica siamo come sotto il fascismo dubitiamo che zanna possa diciamo interpretare al posto di mastroianni il remake di una giornata particolare e poi regista in questo caso chi sarebbe scola non è disponibile per evidenti ragioni che si fa si ricorre a veltroni non vorremmo dare non vorremmo dare suggerimenti va bene altro tema che sacrificheremo un poco ma che è comunque assai presente sui giornali di oggi parte la missione del cardinale zuppi e ora con diciamo ma questo è un aspetto che nessun giornale approfondisce mettetelo nel conto del nostro spiritaccio laico è un po curioso che con perfidia gesuiti che a bergoglio abbia dopo il fallimento del suo incontro con zelensky nei giorni successivi fatto una serie di dichiarazioni molto pepate su l'ucraina e su zelensky diciamo incendiando un po il clima tra santa sede e kiev e poi adesso caro zuppi visto che ti agiti tanto per fare il papa al mio posto vai tu vai tu zuppi e zuppi va vedremo 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 come tornerà peraltro questa mattina sui microfoni di radio rai da voi pagati pablo era molto il curatore della resegna stampa di radio 1 era molto preoccupato e dispiaciuto del fatto che la foto del cardinale zuppi presente sulla prima della verità pare invecchi un poco il cardinale e pablo avrebbe gradito un'altra foto invito tutto il settore grafico della verità a coordinarsi con pablo per una adeguata scelta delle foto del cardinale zuppi e il papa che fa il papa nell'ambito della giornata mondiale dell'ambiente ieri ha ricevuto i vertici del gruppo jedi a john elkan gli ha donato una sciarpa insomma una volta era il dalai lama a donare le sciarpe adesso e john elkan che dona le sciarpe c'è anche un intervento diciamo un po gretino del pontefice presentato in prima non come papa francesco non come josè bergoglio ma come francesco evidentemente deve essere un amico intimo se lo chiamano francesco va bene va bene non divaghiamo andiamo a vedere le aperture la verità i metropol plurale su cui pm non indagarono prima e dopo il trappolone teso a salvini la gente dell'espresso meranda e il suo compare avevano intavolato altre trattative per partite di petrolio tutte fallite e nessuna degna di interesse per la procura che si accende solo quando si parla di salvini editoriale di belpietro da milano si nasconde può ancora stare in rai andiamo a vedere gli altri quotidiani dell'area di centrodestra libero dopo la batosta elettorale mossa della disperazione e a che si riferisce il titolo di sandusti la sinistra e nel pallone come sempre si affida a magistrati e sindacati che attaccano il governo e minacciano scioperi l'opposizione sono loro così libero il giornale invece valorizza e lo fa a pagina 3 un'intervista del leader di magistratura indipendente che si chiama angelo piraino che sembra prendere anzi prende una posizione diversa rispetto al resto della nm e allora titolo di prima del giornale le toghe si fanno la guerra la nm attacca la meloni e vuole lo sciopero contrari i magistrati più moderati che dicono le riforme sono legittime e cliamo a destra con il tempo ecco il nuovo pnrr ritardi e difficoltà dei progetti previsti nel piano l'esecutivo rivede 120 impegni quindi il tempo per un verso dice sì bisogna rimodulare però per altro verso dai suoi elettori una sensazione diciamo più tranquillizzante e invece è scatenato spara a palle incatenate infatto allora qui l'immagine è quella delle macerie coperte di fango delle miglia romagna nel fotomontaggio c'è davanti una meloni tutta elegante che però tira fuori l'interno delle tasche a mostrarle vuote e direte voi a che serve questo fotomontaggio bambinesco a scrivere così fregati gli alluvionati i 2,2 miliardi sono 1,6 e secondo il fatto che riprende una ricerca di pagella politica la somma stanziata sarebbe un po' inferiore rispetto a quella preannunciata ma soprattutto i fondi sono sottratti a reddito di cittadinanza e tesoro ma se è stato sforbiciato è evidente che quelle risorse siano rese disponibili per altri scopi ma il fatto non si dà pace messaggero con intervista ormai quindicinale al ministro della pubblica amministrazione zangrillo messaggero è tradizionalmente attento agli statali lavoro agile solo per i fragili il governo pronto alla proroghe fino a dicembre zangrillo pandemia finita inutile confermarlo il lavoro agile per i genitori di under 14 andiamo a vedere il corriere della sera sotto la testata controlli sul pnr oggi il voto di fiducia attenzione alle stelle con la corte dei conti titolo principale taglio medio l'esercito di chi è fa l'attacco repubblica l'attacco c'è anche qui riferendosi proprio all'avvio probabile della controffensiva ucraina all'ora dell'attacco sommario il cardinale zuppi vola a chiev prima ascoltiamo gli aggrediti ma sotto la testata la foto del papa francesco che riceve una stola di green and blue da john elkan titolo il papa alla difesa del clima è un bene comune e editoriale francesco un dovere la cura del creato cari fratelli e sorelle insomma non è francesco un amico è proprio papa francesco ma lo chiamano in confidenza francesco va bene abbiamo visto tutte le aperture allora ricominciamo il giro dalla verità le segnalazioni iniziali allora il pezzo di prima che poi si distende nelle pagine 2 e 3 è la quarta puntata dell'inchiesta di giacomo amadori che si raccomanda e ve lo dicevamo qual è l'elemento in più di oggi è abbastanza impressionante cioè il fatto che la stessa comitiva avesse provato prima e dopo i fatti del metropolo a piazzare altre partite di petrolio senza successo ma soprattutto senza che quei tentativi abbiano per nessuna ragione interessato qualche scrutinio giudiziario e si domanda amadori ma come mai chi vi parla invece a pagina 4 fa un parallelo o almeno a costa poi toccherà ad altri stabilire quanti e quali siano i punti di contatto la vicenda del tentato trappolone a salvini con la vicenda di trappolone che invece riuscì evento nel 17 e rilancio mediatico del 19 del video a ibiza che incastrò il vice cancelliere strache e pure lì diciamo il format sembra simile siamo prima dell'europea del 19 strache in vacanza ibiza viene raggiunto da una signorina che si presenta come il nipote di la nipote di un oligarcha russo offre sostegni e finanziamenti a fp o il partito di straga che poi è stato travolto in cambio di appalti e di insomma comportamenti irregolari a favore delle aziende russe il format è simile colpire due partiti in due partiti sovranisti in ascesa prima dell'europea si tratta di capire se sia una coincidenza o se invece diciamo lo schema fosse unica editoriale di belpietro su da milano belpietro a buon gioco anche con grande efficacia a prendere l'incipit di un editoriale di da milano ai tempi in diceva ma qui si omette si occulta non si danno spiegazioni e si riferiva a salvini belpietro usa pari pari le parole di da milano per chiedere conto a da milano dei suoi silenzi nel momento in cui emerge il comportamento dell'espresso da lui allora diretto e giorgio gandola dice guarda si va a una resa dei conti in vigilanza sul comportamento di da milano che ora sta alla rei claudio antonelli racconta la diplomazia parallela di mattarella perché oggi la meloni va a tunisi e il foglio per esempio valorizza anche il rapporto con la georgeva fondo monetario internazionale dice il foglio la meloni va diciamo così a farsi garante della possibilità per la tunisia di accedere alle risorse del fondo monetario internazionale ma torniamo a claudio antonelli che dice mentre la meloni fa questo che fa mattarella va a parigi e non è detto che la linea del capo dello stato sia la stessa del governo nel rapporto con macro franco battaglia su come dal 1920 a oggi il tasso di mortalità per eventi a vario titolo legati al clima sia crollato e allora dice battaglia tutta la linea drammatizzante sugli eventi climatici estremi che 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 fine che fine fa e fanno critico e a mio avviso giustamente su il trappolone in cui è cascato per l'ennesima volta perché ogni settimana ci ricasca il ministro pichetto fratine che ieri si è lanciato in una previsione abbastanza avventurosa l'italia dovrà avere i due terzi di fonti rinnovabili ma dice tobbia de stefano tutto questo è francamente irrealistico mario giordano sul caso di massimo zen e chi è è il vigilante che ha cercato di fermare due ladri uno è morto e ora è finito in galera il vigilante e giordano totocorde si schiera con il vigilante camilla conti sull'ennesima puntata della guerra tra mask e la commissione europea e lo mask come sapete ha ritirato twitter dalla adesione a uno dei 50 protocolli dell'unione europea anti fake news e una delle vicepresidenti della commissione ieri ha di nuovo sparato contro mask alessandro ricco su un accordo tra ue e oms per una specie di come dire eternizzazione se così si può dire del green pass peraltro colgo l'occasione per ricordare che stasera le 19 ci sarà proprio alessandro ricco a dialogare con me ma prima di passare agli altri temi della giornata andiamo a vedere due cose tratte da repubblica e dal corriere che si riferiscono proprio all'inchiesta di amadori sulla verità sul metropolo e si è detto con franchezza è abbastanza sconcertante la pagina 14 di repubblica firmata da foschini e tonacci che è una specie di difesa d'ufficio di dell'espresso di allora e dei giornalisti tiziano eccetera che oggi si sono trasferiti a domani affare metropolo nessun complotto salvini smentito da incontri e mail il ministro ora parla di macchinazione ma gli atti della procura di milano confermano che c'è stata la trattativa con i russi ora attenzione che possa esserci stato un comportamento discutibile sul piano dell'opportunità politica da parte di savoini o da parte di altri esponenti della lega questo è un discorso ed è una questione politica e chi parla non è mai stato tenero sull'argomento ma questo non c'entra niente con l'inchiesta di amadori che giunge oggi alla quarta puntata che non è sul metropolo in sé ma è sulla fabbricazione del metropolo o se volete sul contributo alla fabbricazione del metropolo fatto dato da giornalisti giriamo in altro modo che cosa sarebbe successa se un'operazione per tentare di incastrare la schline fosse stata organizzata da una cricca in concorso con un giornalista della verità o di libero che parte insieme con uno della cricca gli passa le foto gli passi documenti prima durante dopo è si sarebbe detto watergate operazione di di altro che giornalismo operazione di 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 attacco alle istituzioni invece accade sull'altro versante e repubblica rischietta però salvini trafficava sui coi russi può darsi ma non c'entra niente con con la strana interpretazione del ruolo giornalistico dell'espresso altra questione che invece troviamo a pagina 13 del corriere della sera è da milano blindato da milano un touchable è come il celebre film da milano resta la rai conferma anche sciarelli e berlinguer e ci fa sapere il pezzo è siglato ma dovrebbe essere giovanna cavalli è un colonnone pagina 13 del corriere ha ancora un anno di contratto che verrà rispettato dunque da milano anche per la prossima stagione resterà nel palinsesto direi tre con il cavallo e la torcia nonostante le accuse da parte della lega eccetera eccetera e sì però magari qualche spiegazione diciamo occorre per il corriere il caso per repubblica è però la lega ha trafficato per il corriere il caso è chiuso fantastico va bene riprendiamo allora la questione principale cioè il doppio megatrend di cui dicevamo ieri i sovranisti cattivi che insidiano l'unione europea e per altro verso la rivolta dei mandarini magistrati e poi c'è anche la rivolta sindacale se la prende con magistrati e sindacati per questa diciamo operazione di sgangherata supplenza a favore dell'opposizione alessandro sallusti sulla prima di libero capita sempre così nella storia di questa nazione quando la sinistra è alle corde arriva il soccorso rosso extra parlamentare a minare la solidità del governo sarà una coincidenza ma dopo la debacle del pd alle amministrative che ha stroncato sul nascere la speranza che schlain possa ribaltare la situazione nel giro di poche ore magistrati e sindacati hanno annunciato la loro discesa nel campo della politica noi scrive più avanti il direttore di libero non siamo contrari alla protesta in sé siamo ostili alle proteste insensate perciò stupide ma sono convinto di una cosa in questo siamo meno soli di quanto potrebbe apparire questa dichiarazione di guerra sarà l'occasione per vedere quanti magistrati vorranno prestarsi a tenere bordone ai capi bastone asserviti alla politica per questioni di potere personale e vedere anche quanti lavoratori sceglieranno di fare i loro interessi invece di quelli dei loro leader che non hanno mai lavorato un giorno e già pensano solo alla poltrona così sallusti e una difesa del governo e un attacco a chi lo critica c'è anche sulla prima del giornale a firma di marco gervasoni assai condivisibile questa mafia deve essere un omonimo del marco gervasoni che sempre simpaticissimo è sempre un caro amico lo salutiamo da qui ma che ogni giorno su twitter spara palle incatenate contro il governo poi invece sulla prima del giornale lo difende vediamo il gervasoni del giornale santa lucia e la nm sono nel loro pieno diritto di avversare il decreto che limita il controllo della corte dei conti su pnrr ma anche questo con un regime illiberale ha poco a che vedere in russia in ungheria non ci può essere conflitto tra poteri perché le istituzioni indipendenti non esistono sono assai deboli per via dell'eredità dei precedenti regimi comunisti semmai si tratta di uno scontro tra l'autorità dell'esecutivo e quella delle istituzioni terze che va risolto politicamente senza che prevalga un potere sull'altro perché sarebbe anomalo che l'esecutivo soffocasse i magistrati contabili ma altrettanto preoccupante sarebbe il contrario infine il paralogismo più evidente nella posizione della nm il governo sarebbe secondo loro il liberale il che è sinonimo di autoritario ma poi i loro strali si rivolgono contro le misure garantiste prospettate cioè l'eliminazione dell'abuso d'ufficio per gli amministratori pubblici il limite alle intercettazioni la riforma della custodia cautelare che dovrebbe essere decisa da giudici distanti dai bm anche qui siamo lontani da erdogan e putin nei cui paesi i magistrati sbattono in galera senza troppe garanzie gli oppositori si tratta appunto nel caso delle riforme previste da nordio di misure garantiste cioè liberali e quindi dice gervasoni come si concilia l'attaccare il governo in quanto il liberale ma poi il criticare le misure garantiste dunque liberali che propone il governo dice sta qui e ha ragione gervasoni la contraddizione dei magistrati e di chi li supporta però se ci trasferiamo su stampa repubblica è la campagna è forte allora la stampa sul pnr la legalità è a rischio in prima pagina la rivolta della corte dei conti quindi già siamo alla rivolta della corte dei conti e già beh sarà un'esagerazione in prima no no titolo di pagina 2 corte dei conti la rivolta ci dice luca monticelli immaginiamo che oggi faranno le barricate non si metteranno una cintura esplosiva non vorremmo dare suggerimenti per chiarità pagina 3 e per sovrammercato arriva un ex procuratore nazionale antimafia che adesso fa il parlamentare grillino federico caffiero derao e che si esprime così il governo consente a mafia e corrotti di sguazzare nel fango dell'illegalità aspetta che te lo rileggo un momento perché diciamo qui diciamo uno che è stato procuratore nazionale antimafia dovrebbe misurare le parole anche perché diciamo se dice questo è un po' come se dicesse andato via io da quella posizione è il governo consente a mafia e corrotti di sguazzare nel fango dell'illegalità si stanno rimuovendo i pochi argini che c'erano così non si aiuta l'attuazione del piano ma si indebolisce l'amministrazione pubblica allora pagina 1 e pagina 2 la rivolta della corte dei conti le barricate pagina 3 l'ex procuratore antimafia che dice adesso si sguazza nel fango dell'illegalità poi aspetta ci sarà tutta la parte sul pride alla quale arriveremo dopo e si arriva all'editoriale di zagrebelski che imprima questo titolo è giudio che così si stravolge la democrazia immaginate la professoressa democratica che va in autobus a scuola con la borsa a tracolla apre la stampa qui si stravolge la democrazia vediamo che dice vladimiro zagrebelski dove starà la torsione belluina aspetta la costituzione assegna alle camere la funzione legislativa il governo può intervenire solo in casi straordinari di necessità e urgenza oppure quando ottenga specifica delega da parte del parlamento è invece invalsa l'abitudine dei governi con l'acquiescenza delle camere l'omesso controllo da parte dei loro presidenti di procedere regolarmente con decreti legge in più nonostante il recentissimo richiamo del presidente della repubblica si continua a fastellare nello stesso provvedimento norme riferite a temi e materie diverse all'insieme il governo pone la questione di fiducia prassi incostituzionali che stravolgono il disegno democratico della costituzione tanto più gravi quando operano su meccanismi incostituzionali delicati ed essenziali come quelli dei controlli di legalità qui il professore non ha riletto perché diciamo a meno che la cosa diciamo a meno che il lapsus non sia con una potenza comica straordinaria perché avrebbe dovuto scrivere su meccanismi costituzionali delicati ed essenziali come quelli dei controlli di legalità invece li definisce meccanismi incostituzionali quindi da per acquisito che i controlli di legalità siano svolti in modo incostituzionale in Italia il che potrebbe essere ma questa è una capezzonata e invece zagrebelski avrebbe dovuto dire questo mi fa pensare che lo zagrebelski non si è riletto e nemmeno nessuno alla stampa lo ha riletto per o forse l'hanno riletto non hanno capito e vanno messi in paio se manda una cosa zagrebelski non si tocca ma al di là del refuso dal tragico significato diciamo rovesciato quello che manca nel ragionamento del professore è un riferimento temporale lui dice è invalsa l'abitudine dei governi ma è invalsa da quando da 50 anni è invalsa l'abitudine di abusare dei decreti legge e di infilare in quel vagone che è l'unico che corre veloce qualunque cosa ma voi caro zagrebelski ed altri siete stati sempre contrari a riforme che consentissero diciamo così un allimento del percorso legislativo ordinario se tutti i treni in stazione sono fermi e l'unico treno veloce in decreto legge è evidente che poi tutti i governi provino a infilare in quei vagoni quanta più merce possibile anche merce eterogenea ma questa cosa accade da 50 anni non da 5 mesi però adesso si stravolge a melonia quindi si stravolge la democrazia va bene quindi avete capito che la stampa mette le cose in termini e repubblica non fa meno è da conto della presenza televisiva ieri da Nicola Porro di Giorgia Meloni e del suo argomento difensivo efficace riguarda che una serie di norme venivano dal governo Draghi e allora dove sta la torsione autoritaria questo a pagina 7 ma poi arriva a pagina 8 intervistata da Giovanna Vitale la dichiarazione è già in montagna come capo dei partigiani Giuseppe Provenzano ex ministro per il sud è fuga dai controlli la destra porta l'Italia alla deriva ungherese e ci si fa sapere che è andato in Vaticano è andato in Vaticano Provenzano ma lei cosa è andata a fare in Vaticano tra i miei nuovi compiti c'è quello di incontrare le diplomazie già è già compreso nella parte provinciale la cosa è questi veramente si prendono poi sul serio questa cosa pompo tra i miei nuovi compiti c'è quello di incontrare le diplomazie e me coglioni non tenetene conto andiamo alla alla parte più hard dell'intervista la vitale domanda tornando all'Italia non c'è giorno che il governo non attacchi le istituzioni di garanzia corte dei conti rai banca italia commissione web c'è da preoccuparsi e che figura è un governo di estrema destra che sta mostrando il suo vero volto quello che si vede in Ungheria o nella Polonia condannata proprio ieri dalla corte di giustizia o e sull'indipendenza della magistratura fa impressione l'attacco al procuratore nazionale antimafia che peraltro avanzava osservazioni in uno spirito di collaborazione istituzionale non hanno capito che c'è una differenza tra governare e comandare non pensano di avere vinto le elezioni ma di essere diventati i padroni d'Italia e su questa base rialza la palla la vitale ha ragione però di a parlare di rischi autoritarismi tra democrazia e autoritarismo c'è una scala di grigi in mezzo e noi non possiamo accettare che anche l'Italia si colori sempre più di grigio compressione degli spazi democratici e di informazione insofferenza ai controlli aggressione alla magistratura discriminazione sui diritti il disegno è chiaro il disegno è chiaro ci spiega provenzano va bene contribuisce a questo clima Paolo Gentiloni che ieri doveva presentare un libro con con come si dice con Marco Buti e con Fitto che poi è rimasta a Bruxelles e Gentiloni ha pure lui sparato non tanto contro il governo ma contro l'Italia in generale ne dà conto il sole che mette la cosa in prima poi gira all'interno l'Italia è l'unica che vede il PNRR come una medicina amare invece eh signora mia però diciamo tutte queste elucubrazioni sono stroncate con grande efficacia da Domenico Cacopardo siamo a pagina 6 di Italia Oggi corte dei conti perché la rissa la costituzione è stata molto chiara sul ruolo della corte il controllo concomitante è una sovrastruttura dovuta alla concezione giustizialista dei 5 stelle quindi Cacopardo grappate a una norma voluta dai grillini in chiave giustizialista che sovverte sovvertiva lo schema costituzionale per cui alla corte dei conti spetta di controlli successivi non quelli concomitanti un parlamentare che ignora la differenza tra illecito e illegittimità è assolutamente vero visto che il controllo è di illegittimità fatte salve le competenze del giudice penale e ancora con il governo Conte 2 ministra una certa Fabiana Dadone viene approvato di decreto legge numero 76 del 2020 che all'articolo 22 controllo concomitante della corte dei conti per e dice Cacopardo a nessuno può sfuggire la contraddizione tra l'esigenza di accelerare il sostegno all'economia e l'interiore passaggio burocratico e qui diciamo Cacopardo segna il gol del 4 a 0 perché insomma ci hanno fatto la testa così anni di convegni ben fatti i convegni in questo caso per dire che in Italia c'era un eccesso di appesantimento burocratico nel corso delle decisioni e adesso ne vogliono una di più peraltro rispetto alla procedura che è la più stringente quanta tempistica perché in tre anni dovresti realizzare tutto quando sui sugli ordinari piani europei di abbiamo il 34 per cento ma come si fa va bene abbiamo sviscerato abbondantemente questa questione andiamo al dato politico e qui ci aiuta Stefano Folli che come sempre porta un elemento di razionalità estraneo alle altre pagine di Repubblica Folli dedica la prima parte del suo ragionamento che vi riassumiamo ad un invito alla prudenza nei confronti del governo dice ok va bene non ci sarà uno stravolgimento giuridico ma già sei molto forte l'opposizione debole non diciamo esagerare e riassumo rozzamente con parole mie la prima metà del ragionamento di Folli che però poi passa al partito democratico e dice quanto al PD colpisce che si limiti a giocare di rimessa o meglio a fare da sponda da altri soggetti più esposti la corte dei conti addirittura l'antimafia la NM nessuno di loro ha una dimensione politica quella è proprio del partito il PD che avrebbe voce ancora flebile con la voce di Elie Schlein al punto di non essere udita rispetto a una vicenda minore ma non trascurabile la polemica sbagliata sul virgolette saluto romano alla sfilata del 2 giugno qui la verità fattuale svanisce sullo sfondo in quanto quel saluto non c'è mai stato rimane però una sorta di codice in cui si riconosce chi vuole appartenere al fronte degli intransigenti quelli che dicono la russa era compiaciuto come se il gesto fascista fosse stato fatto per cui chi rifiuta tale codice e magari difende le forze armate come guerini sembra quasi appartenere a un altro mondo e l'immagine dei due partiti si ripresenta un po troppo spesso quindi vedi come Folli tenendo insieme le vicende di questi giorni corte dei conti con le vicende del 2 giugno e la clamorosa gaff della murgia è accompagnata però dal silenzio del PD e dal sostegno di alcuni editorialisti segnali la presenza di due cavalli che vanno in direzione opposta diciamo così per usare un'immagine classica giornata di passione perché la regione lazio aveva concesso e poi ha ritirato il patrocinio al gay pride motivazione motivazione nella comunicazione degli organizzatori c'era una parte sull'utero in affitto e apri di cielo pagine 12 e 13 della stampa lazio contro il pride grida niccolò carratelli e nella pagina accanto intervista al presidente della regione rocca mi hanno ingannato io ho dato rifugio ai gay cacciati di casa ma dall'altra parte eccolo la vi dicevamo del remake di una giornata particolare però non ci sarà mastroianni ci sarà zanna non ci sarà scola in regia ci sarà veltroni cittadini discriminati come nel fascismo è omofobia di stato meloni guarda al medioevo vuole trasformarci ditelo voi in che vuole trasformare ditelo voi nell'ungheria di orban vabbè già il copione una volta è provenzano su repubblica una volta è la mastro buoni col libro una volta è zio mauro una volta è zanna ma la canzone è sempre la stessa e naturalmente non manca repubblica questa forte denuncia eccolo qua pagina 17 rocca toglie il patrocini a roma pride schline e gualtieri noi ci saremo e stavolta non c'è zanna che sta sulla stampa ma c'è scalfarotto è il grande buio sulla tutela dei diritti civili superata la linea invalicabile a noi francamente sembra oggi non ci capita spesso di elogiare questo giornale ma sembra sensato quello che scrive il foglio che dedica due articoli alla vicenda il uno degli editoriali in cui critica sia la regione che suppone l'editoriale del foglio cercasse un pretesto per diciamo ritirare il patrocini inizialmente concesso e che ha poi sollevato le proteste di quelli di provita eccetera e quindi suppone l'editoriale del foglio la regione aderata del patrocini ma forse non vedeva l'ora di ritirarlo ma critica anche gli altri che fanno sta chiassata sta piazzata come se la democrazia fosse in pericolo e questo stesso concetto è ripreso in un altro articolo del foglio di salvatore merlo una sparata al giorno ed è una critica alla linea dell'opposizione dal gay pride al saluto romano senza una leader ecco che il pd lo guida il primo che passa oggi è il gay pride che la regione lazio non vuole patrocinare fascismo ma prima è stata la campagna a favore dei ragazzi che all'università dormono in tenda durò 12 ore poi c'è stata la lotta contro l'autoritaria roccella che non si faceva ben zittire al salone del libro di torino faceva pure la vittima questa battaglia civile durò più o meno 24 infine sabato è stata la volta del saluto romano durante la parata del 2 giugno momento di denuncia antifascista grandi argomenti e capite bene da questa ironia si dice ma dove si va a parare però i toni sono questi sul giornale di De Benedetti diretto ora da Fittipaldi arriva la politologa Nadia Urbinati che conclude così il suo attacco alla Meloni vista da fuori la propaganda della virgolette comunità di destino è imbarazzante per il paese intero cioè la Urbinati vi dice che siete tutti imbarazzati da fuori il paese del destino all'aria di essere malmesso con un governo che non sa mettere i novi progetti del PNRR che sperpera denaro pubblico per un ponte che non c'è che inaugura il suo grunquennio con un giro di vite sui diritti d'espressione che umilia chi non vive in famiglie virgolette normali che ammicca gli evasori fiscali non c'è modo peggiore di onorare il patriottismo minestrone ce le mettiamo due vongole ma mettici due vongole mettici pure gli evasori fiscali mettici tutto va bene a tutto questo darà a pari il suo contributo ci informa il foglio all'europea Laura Boldrini perché allora la Schlein avrebbe lanciato l'idea delle cinque capoliste donne e sarebbe pronta la annunziata sarebbero pronte un po' di amiche diciamo donniste del PD ma ci sarebbe anche la Boldrini due ulteriori commenti che vi segnaliamo allora sul sole 24 ore c'è Lina Palmerini che diciamo benvenuta pure lei oggi si accorge di qualche fragilità dell'opposizione dice guarda che la Meloni ci ha dati economici positivi e voi strillate e oggi verrebbe da stringere la mano alla Palmerini che però deve essere omonima pure lei della Palmerini che da quattro mesi dice la Meloni ha problemi scusa Palmerini te svegli oggi a dire che l'opposizione fa delle contestazioni a volte pretestuose mentre è assai raccomandabile il ragionamento complessivo che fa Martino Loiacono con respiro più largo cioè diciamo si sottrae alla tirannide del giorno per giorno e Loiacono dice guarda caro PD che è cambiata è veramente cambiata la cornice è tramontato il contesto nel quale il partito democratico si era mosso con abilità quello dei governi tecnici delle maggioranze ibride eccetera ed è iniziata una nuova fase di opposizione a una maggioranza politica connotata a livello ideologico in questo nuovo ciclo politico i dem si trovano all'opposizione sono costretti a inseguire non senza difficoltà considerando che Giorgia Meloni ha saputo muoversi con abilità nei suoi primi mesi a Palazzo Chigi il nuovo ciclo politico richiederebbe una strategia completamente diversa per contrastare il vento di destra occorre un cambio di paradigma e un nuovo approccio rispetto a quello manovriero dell'ultimo decennio resta da capire se il PD sarà in grado di muoversi in questo nuovo scenario va bene ottimo ottimo lo iacono pagina 2 di italia oggi resta il tempo per una segnalazione conclusiva e qui dobbiamo tornare a repubblica pagina 18 allora la situazione di forza italia la fascina che sembra secondo una certa letteratura guadagnare spazio prendere potere e contemporaneamente il ruolo di forza italia rispetto al governo chi la vorrebbe più diciamo allineata con meloni chi invece è più insofferente e indovina che fa repubblica che è lo stesso giornale che alle elezioni regionali siciliane ci diceva torna schifani terribile c'è le ombre adesso schifani è l'eroe della resistenza antifascina schifani forza italia non sia gestita dagli amici della porta accanto lo sente manuele lauria e schifani le cui vicende in forza italia devono essere state sempre improntate alla contestazione della lì e berlusconi è stato non si per quanto tempo capogruppo al senato poi presidente del senato poi se n'è andato con alfano poi è ritornato è diventato candidato alla presidenza regione sicilia sempre diciamo ben accomodato adesso fa il pasdarang di opposizione e la mette così berlusconi ha detto che saranno premiati i talenti affermazione lodevole basta che ci si metta d'accordo su cosa significa se ci limitiamo mettiamola così al talento intellettuale si rischia di cadere in scelte che valorizzeranno chi ha più simpatie nel gota del partito quindi adesso vanno bene le simpatie dopodiché schifani si propone anche come capofila dei governatori anti autonomia non si può nascondere che in alcune parti d'italia covi malessere e io mi sentirei in colpa se non dicessi quello che penso se non mettessi in guardia davanti al pericolo di un metodo di rilancio che parte dalla porta accanto che premia non l'esperienza collaudata ma i rapporti personali vabbè così schifani in versione combat vabbè fa abbastanza ridere però invece repubblica lo prende sul serio finisce qui la puntata di oggi della verità alle 7 noi ci ritroviamo questa sera alle 19 poi domani mattina alle 7 non dimenticate se volete di passare in edicolo a prendere la verità buona giornata